ok io direi che è finita la nostra rosa bellissima per un anniversario di matrimonio perfetto bravi 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 anche che io può essere qui cimi sto finendo un lavoro lavoro un lavoro insomma guardate sto applicando gli ultimi petale anzi petale le politine no diciamo che pensavo di farcela prima ma sapete che un lavoro a mano è così 15 messo un po di più ma sono contenta che diciamo sono riuscita a ottenere perché lavoro prima volta con questo tipo di materiale guarda anche se si chiama uguale nome materiali ogni colore ogni è diverso è diverso quindi mi tocca a volta sperimentare insomma comunque eccoci qua la nostra bellissima rosa questa la nostra lampada una lampada bella diciamo è che è niente di che però comunque una lampada valida niente abbiamo credo che sufficiente abbiamo messe nostre folettine vedete leggermente senza va bene così ok adesso controlliamo questo ma l'incastro ma l'incastro eccoci qua vediamo che sarà ok proviamo proviamo allora si accende da qua eccoci qua si regola guardate si regola anche l'intensità e voilà la nostra rosa è pronta guardate che bella questa è una vera lampada con filo ok adesso facciamo qualche scritta giusto per essere in tema sì questa rosa è dedicata a una famiglia splendida sì saluta sceglie che il re ciao sceglie che ok perfetto vi auguro un altri cento anni insomma sì un anniversario di matrimonio siete maggiorelli come si dice 18 più siete grandi vaccinati quindi andrà tutto bene ciao grazie allora bene non c'è tempo più per ritocchi ecco qua c'è un po di colla un po sopra un po sotto ma credo che meglio lasciare stare va va bene allora 18 anni di matrimonio la data del matrimonio la data del matrimonio tre coricini con amore la data di di quest'anno di anniversario e tre coricine facciamo un po conte va vediamo se sono giuste 18 più 3 più 4 2004 uguale uguale tre coricini non importa cosa è uguale qua non importa che ci sono tre figlie e spero tanta serenità ok perfetta vi ricordo che abbiamo fatto una bella lampada vera e propria lampada guardate nostro video e niente vg per ogni occasione bene la confezioniamo e andiamo a lavorare beh io direi che missione compiuta una bella lampada per un bel anniversario di matrimonio guardate per qualsiasi occasione ecco qui abbiamo anche scritto un po di poesia direi perfetta ecco si accende bella 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 bellissima bravo scusami come without a reason why love as if you were a child La bellezza grida fra le montagne Tra un battito d'ali e un ruggito di leoni La bellezza sorge da ora La bellezza grida fra le montagne La bellezza grida fra le montagne